I sei atleti dell'Amatori Serafini Sulmona sono partiti per Cless, località turistica del Trentino, nella ridente Val del Sole, dove parteciperanno ai campionati italiani cadetti e cadette in programma domani e dopodomani. C'è grande attesa per le prestazioni di Ludovica Di Cesare nei 300 metri e nella staffetta 4%, Giorgia Calabrese negli 80 metri e nella 4%, Vittoria Casaccia nel salto in alto, Luigi Marrese nei 300 metri e nella staffetta 4%, Remo Palazzone nei 300 metri ostacoli e Mario Garofalo nel lancio del peso. Porteranno in alto il nome della città di Sulmona e delle loro scuole, il polo scientifico Rico Fermi ed il Giambattista Vico. Avranno Sulmona nel cuore indossando la maglia della rappresentativa abruzzese, facendo emergere la loro territorialità e seguendo le orme di chi, nella lunga storia dell'Atletico Ovidiana, si è sempre distinto con risultati importanti in campo nazionale. Un onore per la città di Sulmona avere propri rappresentanti tra le tante promesse che parteciperanno ai tricolori cadetti, oltre 1200. Si tratta inoltre di un record perché per la prima volta nella storia sei atleti sulmonesi sono stati convocati per un campionato nazionale. Il sindaco Anna Maria Casini ha rivolto gli auguri a nome dell'intera città affinché possano ben comportarsi. Io ho chiesto loro di riportarmi sei medaglie, spero che riescano nel loro intendo.